E' stato un po' complicato, lo diceva anche un certo Marco Alec, sicuramente, ma lui la guidava, ha anche vinto dei mondiali, quindi va bene. Comunque sì, è vero, è un po' complicata, ma bellissima e sicuramente divertente. Grazie ragazzi, grazie a Pellegrino Peruzzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.